Due arrivi, qualche partenza, molti no e troppe caselle vuote da riempire. A soli sei giorni dall'inizio della preparazione precampionato, il Teramo è ancora un cantiere aperto dove le certezze non sono poi molte. Certo, il tempo per lavorare c'è ancora ed è anche molto, ma c'è qualcosa che rispetto a qualche anno fa stride con la realtà. Innanzitutto i tanti, forse troppi, no, che sono arrivati in sede da alcuni giocatori che hanno preferito altre vie e altri lidi per disputare il prossimo campionato. Se qualcuno pensa che quest'anno possa essere come gli altri anni della gestione Campitelli, quelli felici e vincenti, forse farebbe bene a rivedere i propri pensieri. Quest'anno sarà dura, anzi durissima, visto che il campionato è in pratica una C1 rinforzata e ci vogliono soldi e giocatori per poterla disputare in maniera degna. Come si diceva in precedenza, tanti sono stati no ricevuti dalla società biancorossa e se due sono stati gli arrivi fino ad oggi, Donna Rumma e Perrotta, bisogna ricordare che si deve dire grazie al Pescara e ai buoni rapporti che intercorrono tra il presidente Campitelli e Daniele Sebastiani. se le due operazioni sono andate in porto. I due giocatori, infatti, sono arrivati entrambi via Delfino e non è poca cosa. Il nodo principale da sciogliere per il momento resta il portiere. La stagione scorsa, un'indicazione l'ha fornita, Narduzzo non può essere il titolare di una squadra di Lega Pro unica. Sarebbe opportuno il ritorno di Federico Serraiocco, che il Brescia ha in stand-by in questo momento, così come la situazione della società lombarda. Serraiocco, infatti, se non dovesse essere il titolare, potrebbe anche tornare in biancorosso con la forma del prestito. Oppure, se il Brescia non dovesse iscriversi al campionato, tornerebbe al Teramo in maniera definitiva. Sfumerebbe però la cessione del giocatore e dunque anche la contropartita in denaro, che servirebbe in questo momento come il pane. Difficile così lanciare una campagna abbonamenti in queste condizioni. I tifosi hanno bisogno di certezze e di stimoli, anche se vale il rovescio della medaglia, dove la società chiedere aiuto alla città per avere una base da cui partire. Ultima nota riguarda il programma delle amichevoli. Se si va in Trentino si possono disputarne di importanti e il Teramo lo farà, su tutte quella con il Torino. È anche vero però che quando poi si torna bisognerebbe cercare qualcosa di meglio. Con il Pescara sarà un triangolare, dove c'è anche il San Nicolò. E poi al Bonolis ci saranno Santomero Palmenze e Martinsicuro, che notoriamente non sono Chelsea e Real Madrid. Qualcosa di meglio non era proprio possibile?